Raid vandalici di notte in cerca di emozioni forti e per non morire di noia. I carabinieri della stazione di Condove hanno identificato il gruppo di ragazzi che nella notte tra il 2 e il 3 febbraio ha colpito in diverse zone del paese. I carabinieri, grazie alla visione delle telecamere di alcuni negozi, hanno identificato i 5 giovanissimi, tutti residenti a Condove. Tre di loro sono minorenni, mentre gli altri due hanno appena 18 anni. Numerosi cittadini avevano denunciato ai carabinieri il danneggiamento delle loro autovetture. In un caso un furgone era stato addirittura aperto, mentre i responsabili della FIDAS e dell'AMPI di Condove avevano denunciato il danneggiamento delle vetrine e delle bacheche esposte nella piazza principale del paese. Le immagini mostrano i ragazzi entrare nei garage, recuperare estintori e brilli giocattoli da un garage privato e poi utilizzarli per vandalizzare il paese. Adesso dovranno rispondere di danneggiamento aggravato e furto. Grazie. 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 Grazie.